Dottore, un meeting importantissimo, torna in Italia ma soprattutto arriva a Napoli. Sì, abbiamo riportato, abbiamo vinto la competizione con altri paesi, dopo vent'anni questa importante manifestazione che si chiama Citizen Volcano, se vogliamo città sui vulcani. La prima edizione è stata ideata e svolta a Napoli nel 1998, dopo vent'anni torna qui. Riportiamo sul territorio i temi propri di quelle che sono le peculiarità territoriali, soprattutto dell'area napoletana. Quella di essere sui vulcani, tra i vulcani, all'interno dei vulcani e quindi curarne tutti gli aspetti, quelle della consapevolezza, del rischio ma anche quella di sapere che il vulcano può essere una risorsa per i cittadini.